Il trapper Andrea Arrigoni, noto come sciva, è stato colpito da un'altra ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal tribunale di Ascoli Piceno, mentre già si trovava detenuto a San Vittore per sospetto di tentato omicidio. Questa volta le nuove accuse riguardano una violenta rissa avvenuta nell'agosto scorso nelle Marche, che ha coinvolto almeno altre quattro persone e ha causato ferite a tre individui. La procura di Ascoli Piceno, contesta i fatti risalenti al 30 agosto, quando sciva mentre si trovava a San Benedetto del Tronto, è stato coinvolto in una collutazione durante la quale avrebbe estratto un coltello, colpendo ripetutamente un individuo estraneo alla disputa. Tre persone sono rimaste ferite con prognosi da 10 a 35 giorni. Sciva è stato nuovamente arrestato il 30 ottobre insieme ad altre quattro persone e sarà interrogato dalla procura di Ascoli Piceno. La custodia cautelare è stata emessa dal GIP, che ha ritenuto sussistere il rischio di reiterazione di reati simili. Grazie per la visione!